Abbattuti 14 cinghiali dai cacciatori del caposquadra Vincenzo Chiefari, linea a Saro Gioitta. Con il caposquadra Vincenzo, oggi è una giornata storica, quando sono stati i cinghiali uccisi, quali le squadre che hanno partecipato? Allora, oggi abbiamo fatto un gemellaggio di praticamente 5 squadre, in capo Giulio Cirillo, che è la squadra dell'Ancinale, ha fatto gemellaggio con la squadra Beethoven, l'Ortoidattilo, Valle d'Ancinale, la Valle del Fiume. Praticamente siamo iniziati stamattina dalle 9 a fare prima le poste e poi abbiamo fatto la braccata con i cani. In totale oggi 12 cinghiali, qualcuno se ne è andato che c'è stato pure qualche padella, troppe padelle. Spieghiamo che sono le padelle. Le padelle praticamente sono quando passano i cinghiali e non c'è l'abbattimento finale. Chi è stato il cacciatore più lucido, diciamo? Oggi il cacciatore più lucido è stato il dottore Maltese, che ha fatto tre abbattimenti. Adesso cosa succede? Dove andate a festeggiare? No, ognuno si ritorna alla sua sede per squaiare e poi fare le parti delle carni, ognuno della sua squadra, che siamo del gemellaggio. Per chiudere andiamo a conoscere chi è il cacciatore più anziano. Allora, i cacciatori più anziani sono una decina o quindici nella squadra totale dei gemellaggi. E poi volevi dire? Allora, volevo dire, il lavoro più serio lo fanno i cani. Sono i conduttori dei cani e più i cani, che fanno la ricerca di portare il selvatico alle poste. Uno di questi è il signore. Sì, sì. Buonasera, sì. Sì, grazie ai nostri cani abbiamo cacciato i cinghiali alle poste, così le hanno padellate di più. Così è andata. Purtroppo, quando sono tutti così fuori zone, non sono le zone, così capita. Se no ne avevamo presi di più. Però ne abbiamo fatto un bel numero oggi, bellissimo. Un gioco di squadra, possiamo dire. Sì, con il cacciatore più saggio, più anziano. E le sue padelle, le sue padelle, il vichingo.